Di cui si parla? Chi è Lilith? Commento È un demone femminile, di cui si parla anche nella mitologia babilonese. Nell'Antico Testamento, Isaia 34,14, Isaia profetizza che dopo che Dio avrà condannato e punito i pagani, Lilith troverà riposo tra il Mar Morto e il Golfo di Aqaba, in una zona desertica, infestata da predatori e mostri. Nella cabala Lilith figura come strozzatrice di infanti e madre di numerosi demoni. Il satana femminile Lilith compare anche nella notte di Valpurga, Goethe, Fausto, Primo. Come si spiega che figure simboliche di positività o negatività compaiono nelle tradizioni di popoli che non si sono mai conosciuti? Succede che forme pensiero altamente energizzate da intere popolazioni travalicano lo spazio fisico e si trasmettono telepaticamente ad altri popoli che hanno similitudini evolutive. Grazie. 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 Grazie.